Sono Rufus, ho osservato i tuoi progressi ragazzo, incontriamoci all'Electric Lady Lounge sulla Ocean, dobbiamo parlare, vieni da solo intesi. Grazie per la visione! 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 Hai due nuovi messaggi Ho un lavoro fatto apposta per te, amico Ti terrai impegnato per un bel pezzo, un vero sballo Chiamami Ascoltano Pronto 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 Pronto